Buongiorno a tutti, oggi vediamo il termine under the gun. Diciamo che una nostra pedina va under the gun quando la mettiamo in una casa della casa interna avversaria sotto attacco di almeno tre pedine avversarie. Vediamo un esempio. Nella posizione che vedete l'avversario ha aperto con un 4-3 portando due pedine in avanti dal midpoint. Se noi non replichiamo allo stesso modo, quindi portando due pedine down dal midpoint, che è la mossa corretta, ma splittiamo i nostri runner, il runner che portiamo avanti va under the gun. E quindi rischiamo che l'avversario ci faccia casa in testa. Quindi andare under the gun è una scelta sicuramente rischiosa, anche se qualche volta giustificata. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.